Allora, come sapete si sta utilizzando questo format molto particolare che ci consente di raccontare un po' quello che abbiamo fatto in questi anni, le idee che abbiamo elaborato assieme a tutti voi, come si è espressa la rete e come vogliamo realizzare le nostre proposte. Io ieri mentre preparavo gli appunti per questo momento formativo riflettevo e ridevo sulle bugie che sono state diffuse in questi giorni, mi riferisco a quello che ha detto Berlusconi su di noi, sul nostro gruppo, perché sorridevo? Perché il paradosso vuole che io nella vita sono un'insegnante e mi ritrovo in questa occasione a condividere con voi il bagaglio di conoscenze e esperienze che ho acquisito durante questi anni in Parlamento. Tra l'altro voglio dire che tutti, o meglio, quasi tutti i colleghi della nostra commissione provengono dal mondo dell'istruzione, quindi non c'è niente di più falso di quello che è stato detto in merito alle nostre competenze. Allora, entriamo nel vivo dei fatti, quindi delle battaglie che abbiamo condotto durante questi anni nell'ambito della scuola in particolare. Io mi soffermerò su questo ambito, poi il collega su quello universitario. Beh, allora, diciamo che una delle battaglie più importanti che abbiamo fatto si può riassumere nella lotta per la difesa della scuola pubblica, in nome dell'articolo 33 della Costituzione, che dà la possibilità ai privati di aprire delle scuole, ma senza oneri per lo Stato. E questo lo abbiamo sostenuto attraverso molti atti, molte battaglie, diciamo per tre motivi essenziali. Il primo, il fatto che molto spesso le scuole private non godono effettivamente di una parità sostanziale, quindi reale nei confronti della scuola pubblica, perché molto spesso i docenti, ad esempio, non hanno un contratto regolare, oppure non vengono pagati regolarmente, oppure la didattica anche non è qualitativamente valida. Quindi effettivamente quei requisiti che vengono richiesti dal Ministero per ottenere la parità, in realtà non sussistono. E quindi questo è stato un fronte su cui abbiamo molto combattuto. E un altro, che è sempre in merito appunto alla parità, che molto spesso poi ci sono degli istituti che vengono considerati paritari alle scuole pubbliche, ma in realtà sono dei veri e propri diplomifici, quindi delle fabbriche che elargiscono in pratica diplomi facilmente, dietro pagamento di una retta e anche dei docenti compiacenti. Quindi questo è proprio addirittura, qui si sfocia nell'illegalità ed ecco che è una cosa che anche abbiamo fortemente contrastato. Terzo motivo, ma non per importanza, che è in pratica il fatto che a fronte del finanziamento delle scuole private, paritarie, stiamo parlando comunque di scuole appunto non pubbliche, statali, abbiamo e parliamo di circa 500 milioni di euro l'anno, a fronte di questo abbiamo dall'altra parte la richiesta di contributi cosiddetti volontari alle famiglie, per tra l'altro le cose più necessarie, i servizi più essenziali, perché vengono richiesti i contributi alle famiglie per il materiale didattico, per il materiale per l'igiene, anche per gli stessi corsi, quindi per l'offerta formativa, per non parlare poi comunque anche dei soldi che naturalmente le famiglie devono spendere per i testi scolastici e ancora dei contributi che vengono richiesti per i servizi scolastici, altri servizi essenziali appunto per esercitare il diritto all'istruzione, come l'assistenza specialistica in caso di particolari difficoltà, oppure la mensa e il trasporto scolastico, quindi parliamo ecco di servizi essenziali che molto spesso sono completamente a carico delle famiglie, anche a causa di comuni inadempienti per i motivi più diversi o per delle difficoltà oggettive a causa dei tagli, oppure perché effettivamente questi comuni hanno scelto di dare priorità ad altro piuttosto che all'istruzione. Continuo ancora con l'illustrazione delle battaglie, sempre per macro aree, un'altra battaglia sempre declinata in diversi atti è quella che abbiamo fatto contro i tagli, tagli che in particolare sono stati operati dal precedente governo, parliamo del governo Berlusconi, che hanno ammontato anche a più di 8 miliardi di euro e hanno riguardato molto le cattedre, quindi i docenti e quindi le materie e quindi si tratta di tagli che hanno determinato un grande impoverimento dell'offerta formativa perché sono state tagliate materie fondamentali come l'italiano, la geografia, la storia dell'arte e sempre rimanendo nelle scuole superiori sono state tagliate molte ore di laboratorio, scendendo per grado di scuola e andando alla scuola primaria, i tagli hanno riguardato il tempo pieno, la compresenza e poi un altro cambiamento che è stato fatto, che ha portato a risparmiare sulla scuola ma provocando tantissimi disagi è quello dell'innalzamento del numero di alunni per classe che ha portato quindi a notevoli disagi sul piano della didattica, quindi dell'insegnamento, dell'apprendimento ma naturalmente anche sul piano della sicurezza, ecco perché abbiamo anche fortemente contrastato questa deriva. E un'altra macro battaglia che abbiamo fatto è quella contro invece le politiche che sono intervenute successivamente quindi in questa legislatura operate dal governo Renzi e quindi la trasformazione della scuola in una vera e propria azienda e io adesso vi do qui qualche elemento proprio per anche voi focalizzare questa vera e propria aziendalizzazione della scuola pubblica italiana. Beh, basta pensare al fatto che l'alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria negli istituti superiori. È stato stabilito che devono essere svolte negli istituti tecnici superiori almeno 400 ore di questa attività e 200 ore sono state introdotte nei licei. Bene, questo praticamente è un qualcosa che si è trasformato più nello sfruttamento della forza lavoro dei giovani piuttosto che nel creare occasioni formative valide. Ecco perché ci siamo battuti contro questa obbligatorietà. E poi c'è un altro aspetto che simboleggia molto questa aziendalizzazione e che sicuramente anche chi non è del mondo della scuola ne ha sentito parlare e cioè la creazione della figura del preside manager, quindi del dirigente manager che decide tutto perché ormai il dirigente indirizza l'offerta formativa, decide quali docenti devono lavorare nella sua scuola, decide chi premiare attraverso lo scatto stipendiale, stipula le convenzioni con le aziende che riguardano l'alternanza scuola-lavoro e poi deve anche ricercare i finanziamenti presso i privati perché visto che lo Stato ha fatto dei passi indietro rispetto al finanziamento della scuola pubblica statale ecco questo è un onere che è stato anche dato alle scuole e in particolare ai dirigenti che è quello appunto di ricercare i finanziamenti presso i privati i quali ricevono delle agevolazioni fiscali in cambio appunto di una donazione che viene destinata in maniera specifica ad una singola scuola. Beh le conseguenze negative diciamo che le potete intuire facilmente perché abbiamo praticamente un preside che viene distolto dal lavoro fondamentale che è quello appunto di assicurare il funzionamento regolare della scuola. Abbiamo un insegnamento che viene condizionato probabilmente dai privati oppure ci possono essere anche casi di sponsorizzazione nelle scuole. E poi c'è anche un'altra conseguenza negativa che è l'inasprimento delle differenze delle scuole tra i diversi territori perché sappiamo bene che ad esempio al nord abbiamo un tessuto economico produttivo molto più vivace e quindi naturalmente le scuole di quel territorio sicuramente gioveranno di più delle appunto donazioni liberali dei privati rispetto a territori invece più disagiati e quindi diciamo che le scuole di conseguenza gli studenti soffriranno questa discriminazione ecco perché questo è un altro motivo di battaglia da parte nostra. Adesso io andrò più velocemente per quanto riguarda le idee dopo i fatti e cioè il fatto che noi naturalmente attraverso le proposte presentate nelle commissioni in Parlamento abbiamo cercato di correggere tutte queste strutture e quindi di attuare dei cambiamenti positivi nella scuola attraverso il ripristino del tempo pieno della compresenza nella scuola primaria, attraverso il potenziamento delle materie appunto falciliate dalla riforma gelmini, attraverso una democratizzazione appunto della scuola, attraverso il potenziamento pure degli organi collegiali, cose invece che sono stati svuotati di potere appunto con il governo Renzi. così come abbiamo presentato delle proposte per aumentare quindi finanziamenti pubblici alle scuole e per definire e garantire su tutto il territorio nazionale un livello essenziale di prestazioni scolastiche in maniera da non permettere appunto più che ci siano dei territori degli studenti che possano appunto avvantaggiarsi di servizi fondamentali per appunto il percorso scolastico e altri territori nuovi. Faccio un solo esempio, il tempo pieno, sappiamo tutti comunque i benefici del tempo pieno in termini di prevenzione della dispersione scolastica, ecco il tempo pieno è presente almeno nel 60% delle scuole al nord, al centro anche qui in Abruzzo è presente in solo circa il 12% delle scuole e se andiamo addirittura nelle isole Sicilia, Sardegna ma sicuramente anche il collega Campano condividerà questo triste primato non raggiungiamo nemmeno il 4% delle scuole che offrono il tempo pieno con tutte le conseguenze poi che ne derivano che sono un po' sotto gli occhi di tutti. Bene, siccome ecco dobbiamo chiudere quindi in maniera da dare spazio anche alle domande io mi limito a soffermarmi in questo momento e poi comunque rimango qui a disposizione per altri approfondimenti oppure per aggiungere qualcosa che ritengo opportuno. Grazie per il momento. Buonasera a tutti, sono Luigi Gallo, sono della Commissione Cultura alla Camera che si occupa di scuola, università e ricerca. Il compito è arduo perché abbiamo deciso di non occuparci di un solo tema ma darvi una panoramica più o meno generale sulle tematiche del programma scuola in questo caso e io ho università e ricerca. È tutto da condensare in una quindicina di minuti quindi io vi aprirò delle finestre, vi darò delle parole, chiavi, vi darò dei dati che voi dovete poi successivamente esplorare, è chiaro, per approfondire. Iniziamo con la ricerca. Quali sono gli elementi che contraddistinguono il nostro programma ricerca in tre parole. La nostra ricerca è aperta, aperta perché riteniamo che è necessario dare un accesso libero dei cittadini alla scoperta delle ricerche svolte. La nostra ricerca è stabile perché fino adesso è stata precaria, lo racconteremo, e la nostra ricerca è strategica. Strategica perché la politica elabora i dati e le informazioni della ricerca e con quello dovrebbe operare. Stabile perché stabile? Noi veniamo da un paese che investe pochissimo in ricerca e noi abbiamo deciso di inserire nel programma che è necessario raggiungere la media europea dei finanziamenti che è il 3% del PIL. La media europea dei finanziamenti ci impone che noi in Italia portiamo almeno 10 miliardi sulla ricerca che è il nostro obiettivo ed è un obiettivo non solo di finanziamento ma anche di stabilità. Questi che vogliono andare al governo la pacottaia di centrodestra sono quelli che in realtà non solo hanno tagliato 7,5 miliardi quando hanno governato al settore istruzione e scuola, proprio il titolo di quel decreto era risparmi su scuola, istruzione e università e non solo questo ma hanno cancellato anche dall'università la figura del ricercatore a tempo indeterminato. Questo noi vogliamo rinserire, riteniamo che la stabilità siccome noi siamo, altro dato, ottavi nella classifica internazionale per pubblicazioni scientifiche, cioè come ricercatori italiani che però non sono residenti tutti in Italia perché noi vinciamo da ricercatori italiani anche all'estero i bandi che vengono messi a disposizione. Se facciamo questo calcolo noi osserviamo che nonostante il sottofinanziamento la nostra scuola e università riesce a raggiungere dei risultati altissimi. Immaginate se ci adeguiamo non alle nazioni che in Europa investono di più ma semplicemente alla media europea. Cosa saremmo come potenza? Di cervelli non solo che ritornano in Italia ma anche di quelli che noi stimiamo, le potenzialità, perché un altro dato che vi potete segnare è che se noi andiamo all'università di Pisa, un euro investito nell'università di Pisa è un moltiplicatore del PIL in tutta Italia di tre e questo solo dal punto di vista del PIL ed è un moltiplicatore di tre anche per fatturato produttivo. Quindi l'investimento nel settore istruzione e scuola è un investimento che ha una ricaduta occupazionale di sviluppo e di crescita, quella sana, importante. Detto questo andiamo sulla seconda parola della ricerca strategica. Noi abbiamo tanti enti di ricerca importanti, ne cito alcuno. Abbiamo l'ISPRA per l'ambiente, un ente pubblico di ricerca. Abbiamo INDIRE per la didattica innovativa, quindi noi abbiamo ricercatori che saprebbero dirci qual è la migliore didattica all'interno della scuola o anche all'università. Abbiamo un ente di ricerca, il CRAI per l'agricoltura. Tutti questi enti di ricerca se fossero strategici indirizzerebbero la politica governativa in questi ambiti, ve ne ho indicato solo tre. Noi abbiamo deciso, l'avete deciso voi con la votazione che avete fatto sul blog, di coordinare anche questi enti attraverso un'agenzia nazionale sotto la presidenza del consiglio, in modo che quello che fa la mano destra sa quello che fa la mano sinistra e quindi c'è un coordinamento totale e sotto l'attenzione di tutti i ministri e della presidenza del consiglio di come si muove la ricerca in Italia. Aperta, perché è aperta? Aperta perché oggi c'è un movimento che è nato dal basso sulla ricerca open che ha stimolato le istituzioni, ha coinvolto 450 istituzioni che si occupano di ricerca e 71 autenei per chiedere che quando si pubblica una ricerca sulle riviste scientifiche venga poi pubblicata, aperta e disponibile a tutti i cittadini per la consultazione su delle piattaforme da poter utilizzare. Noi abbiamo deciso di adottare il modello tedesco che dopo un embargo di 12 mesi sulla rivista scientifica permette l'accesso alla ricerca. E questo naturalmente significa credere in una cultura e in una conoscenza di massa rispetto a chi oggi detiene le informazioni e quando detiene le informazioni detiene anche il potere, decide anche come manipolare, decide anche come esercitare il proprio potere. Mentre se la conoscenza è diffusa anche un genitore fa un click e va a vedere didatticamente come è meglio magari educare suo figlio e magari prende sete dalla conoscenza vera e non guarda un programma televisivo idiota che gli da quattro consigli scemi. Andiamo sull'università. Università? Abbiamo concluso con il tempo? No, ho ancora qualche minuto. Per l'università andiamo veloce. Il tema del finanziamento anche lì è strategico. 5% del PIL per raggiungere la media europea e sono necessari tra scuola e università 15 miliardi. Per quanto riguarda invece l'università noi abbiamo dato altri aggettivi. Oltre stabile anche partecipata ed equa. Partecipata perché sapete tutti avete sentito il tema delle baronie, dei baroni, qualcuno può averlo vissuto sulla propria pelle. Che cos'è il barone? Il barone in realtà è un soggetto che all'interno dell'università per essere barone significa che ha dei poteri, che ha sotto di sé delle persone. Allora se è sempre detto combattiamo i baroni, noi abbiamo scelto un altro tipo di strategia, sottraiamo potere ai baroni attraverso un'università partecipata perché se fai il concorso nazionale per i ricercatori sottrai potere al barone. che non lo decide più localmente. Se all'interno dell'università non fai più decidere solo i professori ordinari ma democratizzi l'università facendo decidere anche i ricercatori e gli studenti sottrai potere al barone. Se agisci con norme più dure sull'incompatibilità dei ruoli e sull'utilizzo delle funzioni e delle risorse perché oggi l'incompatibilità la segnala il rettore ma a volte è incompatibile il rettore. Noi abbiamo scoperto in questa legislatura l'incompatibilità in capo al rettore e come si fa in quel caso per esempio. E questo è il secondo termine. Ho un minuto e termino quindi con il terzo punto che è quello dei diritti, dei diritti allo studio. Noi vogliamo, siamo terzultimi in laureati in Europa e vogliamo portare il numero delle reati a crescere sempre di più. Crediamo nella società della conoscenza, crediamo che questa è una spina dorsale del paese che agisce poi su tutti i fronti, ambienti, agricoltura, energia, perché se non c'è questa spina dorsale non si fa nulla e quindi diciamo che cosa bisogna fare? Bisogna aumentare la possibilità degli studenti di iscriversi all'università e agiamo sulla no tax area da allargare da 13 mila euro che è oggi il reddito ISE che bisogna avere per la famiglia per avere l'esenzione delle tasse universitarie a 23 mila euro e il primo risultato, quello di 13 mila euro, è un risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle in questa legislatura. E a questo vanno aggiunte le risorse necessarie per le borse di studio, per le residenze, per rendere l'università accessibile a tutti ma anche equa nella distribuzione. concludo con questi tre termini che vi andate a studiare a casa, costo standard, punti organico e ANVUR sono i tre elementi utilizzati dal governo per distribuire le risorse nell'università in modo non equo, noi vogliamo agire su questi tre parametri. Buona giornata a tutti Adesso domande così le curiosità Io mi chiamo Marta e sono un DSGA, per quanti di voi sanno cos'è, è un direttore dei servizi generali amministrativi, pomposissimo nome che non significa niente, comunque faccio parte del personale amministrativo, mi dispiace dover dire qui che al solito purtroppo quando si parla di istruzione, no no, non sentirti accusata, io parlo del programma, sono qui proprio perché sono venuta apposta per esortarvi a considerare anche il personale amministrativo. Ad onore del vero devo fare due piccoli appunti a quello che tu hai detto sulla scuola. Per cose che secondo me sono importanti, il finanziamento in realtà non è calato, la legge 107 e noi tecnici diciamo fortuna che l'hanno chiamata buona scuola perché se l'avevano chiamata cattiva scuola chissà com'era, la chiamata diretta dei presidi è una cavolata, invece c'è una criticità nel reclutamento, questa è la domanda, nel vostro programma per favore tenete presente le criticità del reclutamento del personale che andiamo a reclutare quando parliamo di scuola, dalla parte dei docenti devono essere persone che non vanno a scuola per un ricambio. Sì, è una questione a cui abbiamo prestato tantissima attenzione perché vogliamo da una parte risolvere il problema della discontinuità didattica, quindi partire proprio dall'esigenza degli studenti ad avere un insegnante regolare e non che cambi più volte durante l'anno oppure nel corso degli anni, anche perché ci sono studi proprio scientifici che dimostrano che migliora il rendimento e il benessere degli studenti nel momento che hanno un insegnante costantemente. E poi anche per risolvere le innumerevoli criticità che ci sono appunto nell'ambito delle diverse categorie degli operatori del mondo della scuola, perché ci sono tante categorie nel mondo del personale ATA, di cui la signora fa parte, così come nel mondo dei docenti e anche, voglio aggiungere, dei dirigenti, comunque anche loro non sono esenti da criticità, iniquità che si sono in pratica verificate nel corso del tempo. Noi vogliamo mettere mano a tutto questo, risolvere queste criticità e quindi da una parte soddisfacendo le aspettative legittime di chi si spende da molti anni nella scuola, quindi è giusto che abbia anche una sicurezza in questi termini e dall'altro garantendo comunque il personale sulla base del fabbisogno nella scuola e sulla base delle competenze che occorrono. Andare in pratica più a fondo significherebbe non dare spazio ad altre domande, ci sarà modo comunque di confrontarsi ulteriormente. Grazie. Grazie Maria. Grazie, sono Fedora Quattrocchi, dirigente di un ente di ricerca, non importa quale, e dirigente sindacale dell'AMPRI, associazione nazionale e professionale della ricerca italiana, che ora è confluito nel Gilda. Volevo sapere cosa pensavate delle seguenti tre criticità. La prima, io mi occupo di energia, quando noi diamo i pareri per fare poi tutte le opere che sono in Italia, quindi ponti, strade, ferrovie, pozzi petrolifero, quello che si vuole, i pareri di ente non sono in realtà pareri di tutto l'ente. E allora per l'articolo 9 della Costituzione noi siamo tutelati nel dare pareri personali che possono essere disgiunti dal parere di ente e questo sta comportando una serie di criticità perché poi la gente viene isolata e quant'altro. Cosa pensate di questo fatto? Cioè che la gente viene isolata e che il parere del singolo, magari onesto, competente, non è quello pilotato perché tutti gli enti di ricerca sono comunque delle cariche politiche in questo momento, non so come sarà qualora non c'è questa situazione attuale. Prima domanda. Poi siamo riusciti con un emendamento al Senato a inserire negli statuti di tutti gli enti di ricerca la Carta europea del ricercatore che invito a leggere. Cosa pensate del fatto che questa non è assolutamente ottemperata in Italia? Terza domanda, il fatto che noi professori universitari a contratto, io lo sono, sostanzialmente non possiamo entrare nel comparto ricerca universitario da ente di ricerca perché l'abilitazione universitaria è divisa per categorie mentre ormai è evidente e chiaro che le carriere miste in cui c'è esperti che nel contempo lo sono e hanno quindi pubblicazioni in più settori, non hanno nessuna possibilità di fare carriera universitaria. Andiamo per sintesi, è chiaro noi come sapete, penso avete sentito altri tipi di programma, noi vogliamo eliminare il peso politico su tutte le nomine e quindi questo varrà anche assolutamente per gli enti di ricerca. Per la mobilità tra enti, ricercatore tra enti, credo che sia importante valutare sempre il merito e non chiudere i soggetti in compartimenti stagni che non possa avvenire, quindi va necessariamente analizzata queste problematiche di barriera. è il terzo tema, quello del parere del singolo, è chiaro che qui stiamo parlando di ricerche scientifiche che hanno peso in funzione del lavoro svolto eccetera eccetera, quindi secondo me arrivare a dare una risposta secca a quella richiesta oggi secondo me non è possibile perché è probabile che le situazioni siano diversificate e è indubbio che eliminando il peso politico, il peso del mondo politico, dal mondo della ricerca questi problemi iniziano a diluirsi e pian piano a scomparire, so benissimo qual è il peso politico, non parlo delle realtà che conosco anche sul mio territorio che ci sono tanti personaggi noti al mondo della ricerca e della politica ma è quello il principale gancio da eliminare anche in altri settori. Spero che sia stato abbastanza esaustivo. Abbiamo due minuti per domande e risposte, quindi un minuto per la domanda. Una domanda velocissima, oltre ai tre attributi che è dato alla ricerca strategica, aperta e continua, stabile, ne manca uno che è fondamentale e voglio sapere come il Movimento 5 Stelle si pone. indipendente, la ricerca deve essere indipendente e lo abbiamo visto con la storia dei vaccini come con tante altre cose. Come potete conciliare l'indipendenza della ricerca senza però sacrificare l'impegno o il contributo dell'industria, del mercato, dei privati? Grazie. È stato appena detto di come voler eliminare il peso politico dagli enti di ricerca e quindi va verso l'indipendenza anche se non è un attributo che avevamo definito. È chiaro che noi abbiamo anche lavorato sul realizzare veramente nei pieni della loro potenzialità un dottorato, i dottorati di ricerca di tipo industriale che sono stati introdotti da Monti ma in realtà sono rimasti un po' sulla carta perché non hanno avuto un peso forte e una capacità di essere promossi così come doveva essere. Quindi pensiamo che entrambi i settori vanno potenziati mantenendo la loro indipendenza e capacità di intervenire su entrambi i settori perché comunque il dato che vi ho dato prima dimostra che anche se io faccio l'investimento anche nel pubblico poi c'è un potenziale di ricerca, innovazione e tecnologia enorme che si sviluppa e quindi poi le aziende quando devono incominciare ad essere competitive con uno stato che innova è chiaro che incominciano a innovare anche loro prima di tutto. Credo che con questa domanda abbiamo concluso e non c'è altro spazio, Maria Marzana fa un utile. Poi abbiamo modo di sentirci, parlarci a margine dell'incontro, ci potete contattare sulle pagine Facebook, ci potete fare mille domande e saremo lieti di rispondervi. Un saluto. Sì, allora, visto il poco spazio a disposizione io voglio ricordare che potete trovare sul sito del Movimento 5 Stelle il nostro programma, troverete nella sezione scuola tutto il percorso che il nostro programma ha fatto sul Russo e il programma completo frutto del lavoro di confronto e approfondimento che abbiamo fatto durante tutti questi anni. Accenno a tre in particolare priorità che voi avete contribuito ad individuare per la scuola e quindi la prima cosa da fare è l'abbassamento del numero di alunni per classe, cosa che giova naturalmente a tutti gli studenti ma anche agli insegnanti in termini proprio di lavoro e di opportunità. Un'altra cosa che avete votato in tantissimo è la proposta di retribuire la formazione perché per noi va premiato l'impegno e la volontà di migliorarsi con costanza. Un'altra cosa su cui tra l'altro io e Luigi abbiamo lavorato personalmente è quello di implementare la diffusione degli strumenti tecnologici, in particolare dei libri digitali nelle scuole. L'integrazione di questi strumenti e dei libri digitali nella scuola permette di conseguire tantissimi aspetti positivi. Da un migliore coinvolgimento degli studenti grazie al fatto che non si utilizza solo la parola ma anche l'immagine che sappiamo insomma essere determinante anche per la comprensione, a consentire un miglior adattamento anche delle proposte educative nei confronti delle diverse esigenze di apprendimento e quindi favorendo una migliore inclusione di tutti gli studenti nelle diverse attività scolastiche. E poi un altro vantaggio che ha delle ricadute dirette su tutte le famiglie è un risparmio notevole per l'acquisto del materiale didattico e quindi credo che è una cosa che fa piacere a tutti. Io vi ringrazio per l'attenzione e rinnoviamo la nostra disponibilità a confrontarci ancora sul nostro programma. Allora potete a questo punto accomodarvi alla vostra destra perché dobbiamo liberare la sala. Grazie ancora.